Sbaglio Nicola, sono più i ragazzini che gli adulti e questo ci compiace perché ovviamente è una... esatto, sì. Date il microfono gentilmente a... ok, ci sei. Le facciamo grece, è giusto che sia così. C'è qualcosa da scoprire perlomeno. Qualcosa da scoprire. Ok. Bene, a 12 anni, arriva da Pesaro, ama il genere pop, in particolare una delle mie preferite, Adele e si chiama Veronica Righi. Allora, Veronica, che cosa ci proponi? Canto Roar di Chetty Perry. Come scusa? Roar di Chetty Perry. Bene, in bocca al lupo. Prepo. Anzi, evviva il lupo perché animalisti. Esatto, bravo. Anzi, evviva il lupo perché�ere un'istitazione. Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti